Le cose non vanno fatto bene, o almeno questo dicono i dati pubblicati dall'ISET, relativi alla produzione industriale scesa nel quarto trimestre del 2019 dell'1,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Si tratta del calo più forte dal 2012 ad oggi. Ma a preoccupare gli analisti del settore è anche un altro dato, ovvero la flessione continua che viene registrata durante tutto il 2019. Su base annuale l'anno scorso è stato registrato un calo del 4,3% e dopo cinque anni, durante i quali bene o male la produzione industriale è rimasta stabile, l'anno scorso è tornata a scendere. Nel dettaglio emergono forti diminuzioni in tutti i comparti, segnano variazioni negative, i beni intermedi, come ad esempio le materie prime, meno 2,8%, l'energia e i beni di consumo, meno 2,5% e i beni strumentali, meno 2,3%. Soffrono meno, ma comunque perdono, anche i beni di consumo, con un meno 0,8%. Vanno bene e viaggiano in terreno positivo invece le attività economiche, come la fabbricazione di computer e i prodotti di elettronica e ottica, più 5,3%, l'industria alimentare, bevande e tabacco, che fanno segnare un più 2,9%. Grazie a tutti. Grazie a tutti.